Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi oggi parleremo di qualcosa di importante se avete delle criptovalute e soprattutto se avete degli altcoins perché anche se sembra molto interessante entrare in altcoins proprio adesso poiché i prezzi sono molto bassi rispetto a dove eravamo l'anno scorso o alcune informazioni molto importanti che devo mostrarvi. E quindi ragazzi insomma parleremo anche di bitcoin sui tempi più lunghi e parleremo anche di bitcoin come sempre sui tempi più brevi e quindi bentornati a tutti. Mi chiamo Marco, portano un video riguardo le cripto ogni giorno, mostrano come fare solo in questo mercato e se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella sarebbe assolutamente fantastico. E quindi le cose continuano a peggiorare ragazzi, come possiamo vedere ci stiamo ancora consolidando all'interno di questa bandiera bearish o formazione bearish di cui parlavamo anche ieri perché ieri siamo saliti e abbiamo testato la resistenza verso l'alto ma siamo stati respinti appunto da questa resistenza. Adesso stiamo anche vedendo una continuazione verso il basso quindi vedremo un breakout a questo schema nei prossimi giorni e quindi assicuratevi di prestare attenzione anche a questo grafico ragazzi. Ma a prescindere nel complesso stiamo ancora scendendo, stiamo ancora andando di lato e quindi siamo in una zona di consolidamento con una tendenza verso il basso. Adesso è quello che possiamo vedere che abbiamo avuto una discesa ieri in Bitcoin, siamo scesi e abbiamo trovato anche supporto sul bordo della fascia arancione proprio in questa zona e questo qua è stato un supporto molto forte anche in passato. Siamo scesi diverse volte in questa zona, per esempio questa volta qui e siamo scesi a questo livello insomma in passato per diverse diverse volte. E quindi in questo livello sta ancora facendo il suo lavoro nel supportare il prezzo ma penso che adesso continueremo a consolidare e tendere verso il basso per un po' di tempo. E quindi questo qua è qualcosa per cui stiamo preparati ed andremo anche ad approfittare di questa situazione mentre andiamo a prezzi più bassi andremo ad accumulare più Bitcoin da tenere a lungo termine. E adesso invece continuiamo anche i mercati tradizionali ragazzi perché abbiamo anche qualcosa di importante qui e quindi questo che stiamo guardando è quello settimanale, andiamo al grafico da 4 ore perché possiamo vedere che abbiamo trovato supporto in questa linea che abbiamo in basso in realtà il 13 maggio. Abbiamo trovato supporto diverse volte a questo livello mentre il prezzo scendeva. E adesso ci stiamo anche consolidando in questo modo quindi le criptovalute stanno andando di lato insieme ai mercati tradizionali per adesso il che significa che la correlazione tra i mercati tradizionali e il mercato delle criptovalute è ancora molto intatta. Adesso invece una cosa di cui voglio parlare è anche il fatto che è successo ieri con Snapchat e quindi le azioni di Snapchat sono scese del 46% il che è assolutamente folle. E ricordate che questa qua non è l'una, questo non è un altcoin della pagina 256 come cap di mercato su CoinMarketCap o qualcosa del genere. Tutti quanti conoscono Snapchat ed è sceso veramente veramente tanto ieri il che è piuttosto assurdo da vedere. E questo qua è perché le persone stanno vendendo molti titoli riguardo la tecnologia, il mondo delle tech in generale non sta andando molto bene adesso perché stiamo scendendo continuamente. Di conseguenza in questo tipo di scenario non vedo Bitcoin salire ad un prezzo molto più alto adesso per esempio verso i 40.000 dollari. E questo qua è il motivo per cui ho detto che penso che andremo ancora più in basso e poi quando le cose cominceranno a cambiare, quando il mercato sarà più ottimista vedremo l'opportunità di acquistare a questi livelli appunto più bassi. Il che mi porta anche a parlarvi degli altcoins perché molte persone ci hanno chiesto se dovrebbero comprare alcuni altcoins adesso. Ebbene ragazzi la maggior parte degli altcoins è in calo e come sappiamo è molto meglio acquistarle a prezzi più bassi piuttosto che acquistarle quando sono ai massimi storici. Ma una cosa che dobbiamo ricordare è che se guardate gli altcoins proprio adesso e se pensate che avremo un lungo periodo di consolidamento e che ad un certo punto entreremo in un nuovo mercato rialzista anche se non sappiamo quando, il fatto è che queste altcoins forse non saranno nemmeno in circolazione per molto tempo. E le monete che saranno ancora in circolazione non andranno a superare le nuove altcoins che saranno in circolazione in quel periodo. E quindi se guardate indietro nello storico per esempio il 7 di gennaio del 2018 questo era il culmine del precedente mercato rialzista per gli altcoins. E quello che possiamo vedere è che abbiamo per esempio bitcoin, abbiamo XRP, abbiamo Ethereum, abbiamo le monete più conosciute. Ma una volta che scendiamo potete vedere che abbiamo molte monete che non sono più in circolazione e se sono ancora in circolazione non erano le migliori in questo ciclo in termini di performance. E quindi abbiamo bitcoin cash, abbiamo anche per esempio Litecoin e non credo che Litecoin abbia nemmeno raggiunto il suo massimo storico precedente a 288 dollari. Tron per esempio è ancora in circolazione ma non è stata una delle monete con le migliori prestazioni in questo ciclo. E poi scendiamo abbiamo IOTA, abbiamo Dash, abbiamo IOS, abbiamo Neo, abbiamo Quantum e via dicendo. E possiamo vedere che una volta che scendiamo più in basso delle 50 monete molte di queste monete non sono nemmeno più in circolazione. E se andiamo per esempio a guardare il ciclo anche prima di questo, se guardiamo il ciclo del 2013 possiamo vedere che abbiamo ancora meno altcoins in circolazione adesso. Dubito che abbiate sentito parlare di più di due altcoins in questa lista che vediamo. Quindi ciò che questo ci sta dicendo è che durante il prossimo ciclo del Sista le monete che sono le migliori adesso in base al cap di mercato che abbiamo non saranno nemmeno in circolazione durante il prossimo ciclo oppure forse non faranno parte delle monete con le migliori prestazioni nel prossimo ciclo. Perché le persone sono sempre alla ricerca appunto dell'altcoin che può aumentare molto in un breve lasso di tempo e di solito si trova in nuovi altcoins. E quindi quest'anno ragazzi abbiamo avuto Play to Earn, abbiamo avuto gli NFT, il DeFi e così via. E però ci saranno nuove narrazioni nel prossimo ciclo Rialzista e quindi siamo alla ricerca di questo. E se guardate anche il grafico della dominanza di Bitcoin possiamo controllare il grafico settimanale e possiamo vedere la stessa cosa anche in questo grafico. Perché se guardiamo il grafico settimanale possiamo vedere che siamo usciti da questa formazione in questa zona. Il dominio di Bitcoin può ancora aumentare ovviamente perché siamo a livelli molto bassi nel complesso. Il che significa che se continuiamo ad andare di lato e se continuiamo a scendere leggermente allora forse Bitcoin andrà ad aumentare nel dominio rispetto agli altcoins. E la prossima resistenza ragazzi è fino a 52% e che è ancora abbastanza lontano da dove siamo adesso. E le uniche monete che sono sicure al 100% che andranno a continuare a performare bene nel mercato sono ovviamente le prime due e quindi Bitcoin e Ethereum. E mentre appunto penso che in questo periodo quindi stiamo accumulando queste due monete mentre le altcoins possono andare bene specialmente nei mercati rialzisti ma noi stiamo accumulando queste due per adesso. E infine anche la whale che controlliamo sempre sta accumulando Bitcoin anche adesso. Ieri ed oggi ha accumulato 162,77 Bitcoin e quindi sta continuando ad accumulare a questi livelli ragazzi. E come detto in precedenza ci saranno opportunità, ci saranno altcoins che andranno a salire molto di prezzo. Avremo anche nuovi tipi di altcoins, avremo qualcosa di molto interessante ma non andrei ad investire sul 150esimo progetto che viene lanciato su un launchpad adesso. In quanto penso che queste monete non andranno molto bene a meno che non siano già affermate e possano continuare a reggere il prezzo. Per ora quindi sapete quali monete stiamo accumulando per mantenere a lungo termine e poi cercheremo anche di cogliere le opportunità man mano che le vediamo arrivare nel mercato. Ma adesso non ci sono molte opportunità insomma. Adesso stoppo un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway. Per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda dalla sezione dei commenti. Pensate che l'una si riprenderà nei prossimi anni o pensate che il progetto sia ormai falliso? Fatemi sapere nei commenti e neviate anche il vostro portafoglio di Binance Bar Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori. E giusto per chiedere basta inviare il portafoglio soltanto una volta anche se rispondete a più video e più domande e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti. E quindi ragazzi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video. E quindi ragazzi inoltre se volete anche iniziare a fare trading da soli potete richiedere anche dei bonus che avete in descrizione. E quindi ragazzi se volete fare trading avete dei bonus per esempio su Bybit, avete fino a 4530 dollari su Bybit, avete anche fino a 4500 dollari su Femex che è valido sia per i nuovi utenti ma anche per quelli esistenti e quindi avete il link in descrizione se volete controllarli. E quindi ragazzi grazie mille per la visione di questo video, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e come sempre ci vediamo nel prossimo.